Buongiorno, sono il professor Massimiliano Jay, coordinatore dei corsi di studio Ingegneria Civile dell'Università di Trieste. Vi presento oggi il corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile. In primo luogo vorrei introdurre la figura dell'ingegnere civile, che è bene ricordare, svolge pienamente la sua attività professionale con il titolo di laurea magistrale. Chi è allora l'ingegnere civile? È la figura professionale che ha padronanza delle discipline di base dell'ingegneria, matematica, fisica, chimica ed economia, e le applica alla progettazione e gestione di costruzioni, strutture, edifici e sistemi infrastrutturali di trasporto e ambientali. È un profilo in forte evoluzione che deve integrare saperi tradizionali consolidati con le nuove tecnologie a servizio dell'industria. Nella diapositiva notate varie immagini che illustrano bene alcuni dei tanti ambiti in cui opera, progettazione edilizia, costruzione di ponti, valutazione del rischio idraulico e progettazione di materiali microstrutturali. Il nostro corso ha subito una forte revisione rispetto agli anni accademici precedenti. Per quest'anno è un corso in lingua mista italiano-inglese, la maggior parte degli insegnamenti però in italiano, e si articola in due curricula. A. Ingegneria civile sostenibile, sustainable civil engineering, e B. Ingegneria dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture, infrastructures and transport systems engineering. La struttura dei curricula sarà meglio specificata tra poco. Sono comunque compresi insegnamenti in comune, insegnamenti specialistici dei vari curricula, un tirocinio formativo presso enti e aziende, e la prova finale, la tesi di laurea magistrale, per un totale di 120 crediti formativi. Sottolineo la durata del tirocinio di 6 crediti, è stata incrementata rispetto ai tre crediti dei piani degli studi degli anni accademici precedenti. Gli sbocchi professionali del corso sono l'impiego presso studi professionali e società di progettazione di opere civili, infrastrutture e sistemi di trasporto, presso imprese di costruzioni, presso enti e uffici pubblici di progettazione, pianificazione e gestione e controllo del patrimonio edilizio, di sistemi di trasporto, eccetera, le carriere direttive con ruoli di responsabilità in aziende attive nel campo delle costruzioni, trasporti e infrastrutture, aziende attive nella gestione del trasporto merito e nella logistica, libera professione, dottorato di ricerca, che costituisce il terzo livello di istruzione universitaria. E' importante sottolineare che il mercato richiede attualmente una quantità di ingegneri civili superiore a cinque volte il numero delle laureati magistrali disponibili, e quindi è molto comune che i laureandi abbiano già offerti di lavoro prima di concludere gli studi. Veniamo ora alla spiegazione dei curricula. Oltre ad alcuni insegnamenti in comune, indicati nella parte inferiore della slide, all'interno del curriculum A, Ingegneria civile e sostenibile, lo studente può seguire due percorsi indipendenti, quello che fa riferimento a strutture e riqualificazioni edilizie, oppure quello relativo a gestione e sostenibilità idraulica e ambientale. Nel primo, struttura e riqualificazione edilizia, si approfondiscono le discipline indicate, quindi Computational Structural Mechanics, dinamica e costruzione in zona sismica, riabilitazione strutturale, costruzione in acciaio e vetro, progetto e riabilitazione di ponti, a cui si aggiungono Green Building Design, Smart Building Technologies, Building Energy Simulation, Recupero Sostenibile del Patrimonio Costruito e Building Information Bottling. È prevista un'attività di progettazione integrata tra più insegnamenti al secondo anno. Il piano degli studi dettagliato, dove sono elencate tutte le attività formative e le modalità di scelta dei vari percorsi all'interno del curriculum, si può scaricare dalla pagina web indicata. I nomi degli insegnamenti in inglese corrispondono a moduli didattici impartiti proprio in quella lingua. Nel secondo percorso, Gestione e Sostenibilità Idraulica Ambientale, la specializzazione verte sulle tematiche delle infrastrutture idrauliche e della sostenibilità ambientale, con gli insegnamenti Environmental Hydraulics, Pollutants, Emissions and Global Warming, Marine Hydraulics, Wave Energy Systems and Shore Protection, Retti Idrauliche e Cicloitico Indregato, a cui si aggiungono Tecniche e Legislazione per la Sostenibilità Ambientale e Territoriale, Gestione e Sostenibilità Ambientale del Territorio. Anche per il curriculum B, Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e delle Infrastrutture, si possono seguire due percorsi, Gestione dei Trasporti e Logistica e Progettazione e Gestione delle Infrastrutture. I due percorsi hanno alcuni insegnamenti in comune, indicati nella parte in alto del riquadro in rosso, ovvero Progettazione funzionale delle strade, Ricerca operativa e gestione dei dati, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Trasporti Ferroviari e Infrastrutture Ferroviarie e Aeroportuali. Gestione dei Trasporti e Logistica sviluppa poi i temi legati a Sustainable Transport and Logistics, Deritto dei Trasporti e Codice degli Appalti, Logistica e Gestione della Supply Chain. Questo percorso è innovativo perché riunisce in una laurea in Ingegneria Civile argomenti trasversali collegati all'economia dei Trasporti e alla Logistica, un caso unico in Italia. Per questo esso può essere interessante anche per laureati triennali in un indirizzo di Ingegneria Gestionale o, in generale, di Ingegneria Industriale. Il secondo percorso, oltre agli insegnamenti in comune già elencati, gli approfondimenti sono principalmente sulle strutture e il monitoraggio delle infrastrutture, in particolare gli insegnamenti costruzioni in cemento armato e zona sismica, progetto e riabilitazione di ponti, monitoraggio civile e ambientale e GIS. Il lavoro di tesi consiste nello svolgimento di un'attività di ricerca o di progettazione innovativa e costituisce un'importante occasione di acquisizione di capacità operative, di approfondimento di tecniche e strumenti di analisi, di elaborazione di schemi interpretativi e di sviluppo di procedure avanzate. Viene elaborato sotto la guida di un relatore. È interessante la possibilità di svolgere tesi presso enti di ricerca e pubblici, con imprese del territorio e all'interno di progetti di ricerca, anche sfruttando il periodo del tirocinio. C'è anche un'importante collaborazione con Sissa su argomenti specifici di meccanica delle strutture, progetto di microstrutture, materiali soft, stampa 3D, sub-micrometrica. In questa slide sono elencati alcuni dei partner presso i quali i nostri studenti svolgono i tirocini o con cui sono attivi progetti di ricerca e collaborazione. Per concludere, alcuni dei temi di ricerca dei docenti del corso, che possono essere sviluppati all'interno delle tesi di laurea. Il primo è relativo al problema di interazione fluido-struttura in acustica e nell'ingegneria strutturale. Il secondo tema si riferisce allo studio di strutture innovative basate sui principi dei metamateriali per isolare dalle onde sismiche o più in generale dalle vibrazioni, strutture, manufatti o anche parti di città. Entrambi gli argomenti si possono affrontare con una solida preparazione di meccanica computazionale. Il terzo argomento si riferisce agli edifici energeticamente sostenibili, di cui si considerano vari aspetti, riqualificazione, digitalizzazione delle informazioni, costruzione del binding information modeling, ecc. L'ultimo, invece, riguarda i sistemi di trasporto e l'intermodalità mare-ferro-gomma, nonché lo studio di sistemi di trasporto funiviari. Vi ringrazio dell'attenzione e qui trovate riferimenti nel caso aveste curiosità o richieste di chiarimento. Non esitate a contattarmi. Arrivederci.